proviamo un video 2.40 per qualche cosa a 20 frame andiamo a serizzare forse gli ho messo un buffer troppo alto andrebbe partire scegliamo e non ci guarda di più ok a 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 372 mega poi c'è anche un cartone animato e questo invece è un file 3 e 20 un pochino più grande scatta di più è un pochino più grande infatti scatta però è quasi full screen si è infatti un po' scatta un 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 L'audio è buono Si parla sempre di un 8 bit Basta